Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Vanishman e oggi andremo a fare una breve recensione dell'abisso ribelle Devo confessarvi che l'ho provato nel crociolo ed è abbastanza forte Dato che ha un perk che è identico rispetto a quello del Suros Regimen, che è questo Con lo zoom sfara più lentamente ma figge danni aggiuntivi E' davvero una buona arma, sicuramente un po' peggiore del Suros ma è una valida alternativa Andiamo a analizzarlo qui nel dettaglio Allora, queste sono le ottiche Mirino agile, rapida maneggevolezza Mirino di precisione per colpi precisi E l'ultimo, mirino di precisione, acquisizione bersaglio potenziata Molto utile contro le magliarde, pensi Poi fuoco a bruciapelo, quando si spara a bruciapelo la precisione di quest'arma aumenta Danno potenziato Poi abbiamo fionda punto singolo Che ci darà un bonus di agilità mentre più che altro si usa nel crociolo Quindi arma più rapidamente e ci muoveremo più velocemente quando miriamo L'equilibrio perfetto ci darà un rinculo molto ridotto Leggerezza, un aumento di 2 all'agilità del personaggio E questo, che è il bonus del proprio dell'arma Sventura dei leak Che ci darà una possibilità di infliggere un coma momentaneo alle magliarde Con i colpi di quest'arma Quindi ovviamente abbiamo perturba al veare E i danni potenziati Tra poco ci vedremo in un crociolo molto veloce In uno spezzone E successivamente nel PvE vi mostrerò quanto fa male E se fa male più che altro Quindi a più tardi E se fa male più che altro No! No! Punizioni pesanti in arrivo! Svegliare l'anima di Crota. Grazie per la visione! Grazie a tutti!